ciao a tutti amici e benvenuti alla bianco auto oggi vi voglio presentare questa fantastica audi a3 sportback 2150 cavalli nella versione sport cambio manuale vettura del 2018 con solo 30 mila chilometri ruote in lega da 18 di serie fare allo xeno sensori parcheggio avanti e dietro nero metallizzato vedete che la vettura è perfetta non ha un graffio da una riga vetri scuri posteriori pacchetto cromature bare cromate è una vettura che arriva direttamente dalla germania ex dipendenti audi che ne importiamo noi direttamente poi ci pensiamo noi a fare le targhe della vettura uscirà con le targhe nuove ovviamente vedete che la vettura è perfetta non ha un graffio non ha una riga è come nuova ma andiamo a vedere gli interni ecco i sedili sono come nuovi uguale al nuovo poi qua i sedili posteriori ecco questo il baule posteriore come vedete questa è anche dotata di dispositivo carico passante per eventualmente mettere un paio di sci andiamo a vedere la parte anteriore destra dal passeggera come vedete anche questa qua è perfetta i sedili sono perfetti ecco qua i sedili sono perfetti allora andiamo all'interno questa vettura è dotata di virtual cockpit sono messe in moto virtual cockpit quindi con scotto digitale possiamo andare a vedere anche il navigatore al suo interno basta che spostiamo qua col computer di bordo e c'è la navigazione bellissimo poi volante multifunzione cruise control fare automatici questo schermino lo possiamo anche tirare giù e funziona tutto lo stesso vedete che c'è il navigatore c'è la radio il telefono bluetooth questi si possono ingrandire e rimpicciolire se voglio vedere lo schermo schiaccio qua e lo schermo esce fuori e posso anche mettere il navigatore lì può andare a spittare nel senso che c'è una radio qua e il navigatore qui così fatto lo split come avessi un doppio schermo ovviamente la macchina bluetooth ha i sensori parcheggio avanti e dietro clima automatico bi zona navigatore satellitare ho già parlato media interface e poi questa vettura ha anche questo favoloso audi smartphone bella audi connect che potete collegare a internet alla macchina e l'audi smartphone cosa serve l'audi smartphone voi potete collegare al vostro telefono su questa applicazione e tutto quel che vedete sul telefono lo vedete su quello schermo sedili riscaldati audi drive select quindi potete andare a impostare il profilo di guida la vettura come già detto e come nuova noi la vendiamo con 36 mesi di garanzia col tagliando già fatto doppie chiavi tappettini in gomma lucidate di fuori sanificate di dentro quindi verrete ritirare la macchina re immatricolata perché arriva dall'estero dalla germania ex dipendenti audi la porterete a casa con la targa nuova come avessi avvisato una macchina nuova uguale a 30 mila chilometri come nuova ok quindi se volete venire a vedere provare questa vettura potete contattare a info chiocciola bianco auto punti t con una mail telefono 0 141 96 92 14 o se volete vederla sul sito internet andate su bianco auto punto it e li trovate questa macchina bene questa audi a3 fantastica vi aspetto a provarla ciao a tutti amici alla prossima